il mistero dell'SA di P-Tool un secondo che la riposiziono nella sua posizione che nel frattempo ho anche provato a cambiare il cavo grazie qua si sta riaccendendo proviamo a chiudere quanto grazie grazie eccoci qua allora la telecamera attiva finalmente si è attivata nonostante fuori il programma avete potuto vedere come risolverlo nel senso che ci sono più modi per poter attivare la telecamera SADP Tool UVMS e pagina web probabilmente col fatto che la stavo testando la stavo provando l'ho cancellata e resettata più volte magari sarebbe stato sufficiente un riavvio del PC per risolvere questo problema evidentemente qualcosa è andato storto per cui sia l'SADP Tool che l'UVMS che comunque si appoggia al servizio dell'SADP Tool riscontravano qualche problema nel collegamento con la telecamera comunque siamo riusciti ad attivare la telecamera la telecamera al momento è un indirizzo fuori dalla mia classe di rete in quanto potrete vedere a brevissimo nella classe 20 per cui possiamo andare a modificare la rete sperando che senza il riavvio di cui vi ho parlato prima me lo faccia fare verifichiamo l'indirizzo che sia libero 20.64 ad esempio 20.64 sembra libero quindi lo prendiamo per buono assort admin 1 2 3 4 1 2 3 4 admin 1 ok vediamo se niente da fare si vede che proprio la connessione dell'SADP Tool in qualche modo è bloccata per cui onde evitare di riveare il pc e di sconnettermi lo facciamo direttamente dalla telecamera in questo caso ho messo il mio pc in maniera che possa comunicare con comunque anche sulla classe punto 1 non avviata in realtà mi ha dato un errore che non ha preso l'indirizzo ma in realtà 192.168.20.64 in realtà l'ha preso 192.168.20.64 facciamo il login alla nostra telecamera min 1,2,3,4 perfetto questa è l'immagine ovviamente a bassa risoluzione perché l'immagine che serve per fare il conteggio persone non deve essere di qualità la telecamera è posizionata esattamente sopra una porta una normalissima porta di un ufficio andiamo a vedere i parametri di configurazione impostazioni di sistema nome del dispositivo numero del dispositivo dati come il modello e il serial number la versione firme della telecamera impostazioni dell'ora classiche impostazioni fuso orario ed eventualmente nell'NTP server in modo da tenere la telecamera sempre sincronizzata sul l'orario corretto mettiamo un refresh ogni 60 minuti in questo modo la telecamera ogni 60 minuti vi chiederà questo indirizzo di aggiornare l'orario oppure potete sincronizzare manualmente l'ora del dispositivo con il pc l'ora legale possiamo abilitare l'ora legale l'ultima domenica di marzo l'ultima domenica di ottobre l'ora classica impostazione di ora legale e ora solare dopodiché abbiamo i parametri per l'RS232 e l'RS485 come dicevo abbiamo una uscita RS485 a bordo della telecamera menu manutenzione abbiamo classico tasto riavvio e due possibilità di ripristino del dispositivo un ripristino di tutti i parametri tranne l'indirizzo IP e un ripristino e la password ovviamente e un ripristino ai valori completamente di fabbrica telecamera nuovamente su inattivo possibilità di esportare i parametri del dispositivo e ovviamente di importarli quindi di fare un'esportazione e una reimportazione del dispositivo possibilità di aggiornare la telecamera tramite browser quindi aggiornamento del firmware nel menu log possiamo filtrare e cercare gli eventi di log quindi tutti gli eventi che accadono sulla telecamera nel menu sicurezza abbiamo l'autenticazione del flusso video RTSP ASO disabilitata nel caso volessimo acquisire il flusso RTSP da un altro dispositivo ad esempio da un NVR di terze parti la possibilità di default è già abilitato il blocco dei login illegali quindi dopo sei tentativi di inserimento password bloccare il dispositivo il dispositivo ovviamente viene bloccato per 30 minuti dopodiché è possibile nuovamente inserire e tentare di inserire una password corretta oppure spegnendo e riaccendendo il dispositivo la gestione degli utenti abbiamo l'utente amministratore che abbiamo creato in fase di attivazione della telecamera e abbiamo la possibilità di creare nuovi utenti con livello di operatore livello di utente già predefinito e comunque modificabile inserendo gli opportuni flag nel menu rete abbiamo ovviamente le impostazioni di rete quelle che abbiamo modificato poco fa impostazioni di dns quindi possibilità di raggiungere la telecamera tramite un server di dns come ad esempio il nostro uscitario la configurazione delle porte di default sono le stesse di tutte le telecamere Hyundai Nexzen e il NAT delle porte con il servizio PNP PNP si è abilitato anche sul lato router automaticamente configura le porte sul router in modo che vengano attivate e vengano rese accessibili nell'impostazione avanzate abbiamo la possibilità di inserire un server FTP su cui caricare i nostri dati le impostazioni mail per farsi inviare le mail su evento evento quali anomalie della telecamera gestione dei certificati quindi dell'HTTPS la possibilità di avere un certificato da installare sul proprio dispositivo in modo da essere sicuri che il flusso dati non venga intercettato o modificato o soprattutto utilizzato per scopi non leciti il QoS quindi quality of service di video audio evento di allarme in questo modo posso dare priorità ai servizi o all'audio o al video scusate o agli eventi di default è impostato tutto a zero quindi tutto con lo stesso a priorità questo parametro non è quasi mai utilizzato impostazioni video abbiamo il mainstream e il sub stream il mainstream come vedete ha una risoluzione molto bassa e tra l'altro non è neanche modificabile potete variare il tipo di bit rate se lasciarlo variabile o impostarlo in costante ma a queste risoluzioni è abbastanza irrilevante questa selezione video in h264 frame rate è a 25 frame per secondo questo è il mainstream il sub stream è molto simile comunque anche in questo caso video e risoluzione non sono modificabili nell'immagini abbiamo l'impostazione dello schermo luminosità nitidezza il momento di esposizione e l'autoshutter nel caso avessimo immagini fortemente contrastate o immaginatevi una porta di una vetrina di una vetrata potreste andare a lavorare su questo parametro per rendere la lettura più affidabile miglioramento dell'immagine con la riduzione digitale del rumore stand up video se parlo nstc impostazione usd possiamo andare a regolare le impostazioni di visualizzazione di quello che appare a bordo della telecamera quindi cambiandogli nome magari cambiando il formato della data volendo possiamo anche aggiungere un altro campo piacere eventualmente possiamo anche cambiare il colore del carattere negli eventi abbiamo degli eventi piuttosto comuni sulle telecamere l'oscuramento quindi nel caso della telecamera venga coperta posso generare su orario un allarme quindi attivare l'uscita a bordo della telecamera piuttosto che notificarlo al centro di controllo UMS piuttosto che inviare una mail abbiamo degli ingressi d'allarme a bordo un ingresso d'allarme tipo NA o NC a piacere possiamo dargli un nome possiamo programmare una schedulazione e possiamo dirgli cosa fare nel caso questo ingresso venga attivato possiamo ad esempio collegarci un contatto magnetico sulla porta una porta scorrevole tutte le volte che la porta scorrevole si apre mi fa una registrazione o mi carica un'immagine sull'FTP ad esempio in modo da avere l'associazione tra ingresso apertura della porta ed eventuale ingresso della persona ed eventuale conteggio uscita di allarme abbiamo un'uscita a bordo schedulabile scherzo comandabile anche manualmente nel caso si voglia collegare ad esempio l'apertura di una sliding door di una porta scorrevole e aprirla manualmente dalla pagina web o dallo UVMS anomalie abbiamo una serie di anomalie per cui possiamo inviare delle notifiche o attivare l'uscita redale memorizzazione nel caso di questa telecamera la memorizzazione è irrilevante perché questa telecamera non supporta la scheda SD nel caso vogliate registrare questa telecamera dovete necessariamente registrarla come flusso video su un NVR o su un ZVR con gli ingressi IP andiamo al menu conteggio persone il menu principale il più importante di questa telecamera quello per cui nasce vediamo come configurare la telecamera in modo che effetti una corretta lettura come prima cosa va abilitato il conteggio persone e va calibrata la grandezza del varco esiste una modalità di calibrazione automatica semplicemente schiacciando tasto calibrazione la telecamera effettua un'analisi dell'immagine e determina la grandezza del varco e l'altezza di installazione della telecamera 212 cm in questo caso più o meno corretto perché la telecamera è montata come vi dicevo esattamente sopra una porta sopra la cornici di una porta quindi l'altezza è corretta automaticamente la telecamera mi dà anche una direzione volendo io posso cambiare la direzione la direzione è quella di entrata quindi in questo caso il mio ufficio è rivolto dove la freccia indica l'ingresso del mio ufficio nel caso in cui adesso in questo caso la porta è una normalissima porta di 80 cm di larghezza quindi il punto di rilevazione della telecamera è questa linea che automaticamente lei ha piazzato l'area di rivelazione è questo rettangolo e il punto di rivelazione come vi dicevo è questa linea che trovate ma nel caso abbiate una porta fatta diversamente una ad esempio una porta girevole potete tranquillamente creare una forma diversa con queste tre linee con questa polilinea e anche in questo caso dargli la direzione opportuna nel mio caso va benissimo il mio caso va benissimo la linea orizzontale se non fossi soddisfatto della calibrazione automatica posso sempre fare una calibrazione manuale e dare un'altezza di installazione della telecamera dicendo la telecamera che è alta tre metri come vedete al momento sbaglia perché effettivamente la telecamera non è montata tre metri l'altezza è molto importante adesso vi farò vedere perché una volta configurata la mia calibrazione quindi creata la mia calibrazione posso dirgli con una programmazione oraria quando fare quando abilitare la lettura delle entrate e delle uscite posso dirgli come di default già è di segnalare questa lettura al mio centro d'allarmico e del mio UVMS il caricamento dei dati il caricamento dei dati può essere in tempo reale oppure ogni x minuti il default è impostato ogni 15 minuti adesso gli diamo il caricamento in tempo reale un parametro abbastanza irrilevante nel caso di un normale conteggio persone ai fini statistici in quanto magari il conteggio lo si fa a fine settimana a fine giornata o a fine mese volendo posso integrare degli IP di destinazione o degli URL per inviare dei rapporti nel caso dell'integrazione del conteggio su software di terze parti statistici ad esempio di negozi in franchising avanzate posso plegare la visualizzazione delle informazioni sulle regole del flusso cioè la visualizzazione dell'area sul mio UVMS e anche l'altezza di quello che la telecamera sta leggendo questo parametro invece altezza è un parametro di discriminazione in questo caso di default la telecamera non conta tutti gli oggetti più bassi di 120 cm valigie bambini animali questo parametro ovviamente è modificabile 120 cm la traduzione non è eccezionale questo a tendina identifica il tipo di conteggio che voglio fare conteggio delle sole persone entranti solo persone uscenti entrata uscita entrata e passaggio cioè mi conta tutte le persone che entrano e mi dà un conteggio globale delle persone che entrano ed escono passaggio oppure nessun conteggio noi gli diciamo il comune l'entrata e l'uscita possiamo aggiornare manualmente lo stato del conteggio possiamo ripristinare manualmente il conteggio quindi portarlo a zero oppure gli possiamo dire che tutte le notti a mezzanotte o all'ora che voglio di effettuare un azzeramento ad esempio se vogliamo fare un conteggio mattina e pomeriggio potete tranquillamente mettere 12 in modo che giorno a mezzogiorno resetta il conteggio se invece voglio cancellare tutti i dati archiviati all'interno della telecamera quindi il conteggio anche delle persone entrate nei giorni precedenti posso cliccare su questo tasto configurazione come avete visto è molto molto semplice non c'è molto da fare come vedete avendo selezionato entrata uscita sul display mi mette in sovraimpressione i numeri delle persone entrate i numeri delle persone uscite adesso ovviamente facciamo un test come avete visto la telecamera dimostra in tempo reale il conteggio delle persone entrate e delle persone uscite bene cosa ne faccio di questo conteggio con il tasto applicazione possiamo andare a avere una statistica delle persone entrate in formato tabella per orario in caso un rapporto giornaliero in grafico a barre o in grafico a linee io ho una visualizzazione grafica in questo caso è un rapporto giornaliero quindi mi mostra le singole ore ma posso selezionare un rapporto settimanale e vedere che lunedì ci sono stati 12 passaggi anzi 12 entrate martedì ce ne sono stati soltanto 3 mercoledì 11 giovedì 6 venerdì e oggi 3 come vedete tiene conto tutti i passaggi anche quelli precedenti fino a che non vado a eliminare i dati archiviati tutto chiaro finora mi date un check sulla chat ok qualcuno sta scrivendo ovviamente questi dati possono essere esportati come vedete c'è il tasto esporta il tasto esporta è solo per la tabella e l'esportazione dei dati avviene in file CSV porta si deve salvare gli dico di salvare sul desktop rapporto giornaliero automaticamente mi crea il nome con il rapporto giornaliero e la data ok vado sul mio desktop apro il rapporto giornaliero e ho la mia tabella con le mie varie entrate giornaliere cioè di oggi e le mie tre ingressi queste cose ovviamente possono anche essere fatte tramite l'uums client file client client ora l'indirizzo vecchio 8.20 4 nom admin password admin 1 2 3 4 aggiungiamo quindi proprio solo la parte di SADP tool che si è bloccata in qualche modo conteggio persone è stato aggiunto lo abbiamo anche nel gruppo perfetto nel pannello di controllo andiamo a abilitare il nostro conteggio di persone normalmente vuoi la prima installazione questo menu non ve lo trovate perché per abilitarlo dovete andare in statistiche e abilitare il flag che vi interessa in questo caso conteggio persone tasto conteggio persone come vedete interfaccia grafica più che altro seleziono la mia telecamera vi dico di fare un rapporto settimanale vi dico che voglio le entrate e le uscite qualcosa ok il rapporto settimanale una sola telecamera per periodo conteggio persone selezionato entrata uscita come vedete io ho il conteggio delle mie persone entrate persone uscite anche in questo caso ho la possibilità di selezionare grafico a barre o grafico a linee anche in questo caso posso esportare i miei dati in questo caso un rapporto settimanale posizioniamo sempre sul desktop in modo che sia facile da recuperare backup è uscito il rapporto settimanale è apparso sul mio desktop vedete lunedì adesso la formatazione con il libero office non è il massimo però lunedì sono entrate 12 persone sono uscite 13 e così via oltre al rapporto settimanale un rapporto ampio mensile mi visualizza 30 giorni di novembre con i picchi sul 18 19 20 21 e oggi 22 dopo il rapporto mensile c'è anche il rapporto annuale dove vi fa vedere che nel mese di novembre in totale sono entrate 36 persone e ne sono uscite 34 l'affidabilità di questa telecamera lettura conteggio persone è all'incirca dell'97% rispondo a un messaggio ok mi stanno chiedendo se può eseguire una doppia rilevazione cioè due persone che passano contemporaneamente no appunto per questo il il conteggio è quel 97% è indicativo appunto sul tipo di passaggio stesso discorso esiste una discriminazione per altezza però nel caso non voglia rilevare ad esempio caralli della spesa o trolley eccetera devo necessariamente rischiare di perdere l'ingresso di bambini o di persone che camminano che sono al di sotto di quella misura che io vado a definire nella discriminazione questa telecamera è possibile integrarla in un qualsiasi videoregistratore Hyundai ZVR o NVR e dal menu locale quindi dal monitor locale del videoregistratore è possibile avere lo stesso tipo di grafico monitor nel menu playback nel menu ricerca VCA voi potete selezionare conteggio persone selezionando la telecamera in oggetto potete avere le statistiche in formato grafico quindi col grafico a barre o col grafico a linee direttamente sul monitor del vostro videoregistratore grafico 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 direi che ho detto più o meno tutto sulla telecamera conteggio persone se avete qualche domanda potete tranquillamente scriverla sulla chat se avete qualsiasi dubbio chiarimento volete qualche chiarimento volete sapere avere indicazioni commerciali sul tipo di telecamera o comunque su altri prodotti qui vedete tutti i nostri contatti potete contattarci tranquillamente rimango a disposizione per domande chat se volete scrivere c'è una domanda se è possibile far confluire i dati di più di una telecamera in un unico conteggio o restano comunque separati no allora la telecamera è una telecamera stand alone quindi la telecamera è fine a se stessa cioè fa un conteggio del varco del singolo varco quindi devo andare io manualmente a mettere in comparativa i vari varchi esiste un'applicazione che noi forniamo tramite il sistema VALSIS che si chiama appunto visual counter per poter mettere in correlazione più di una telecamera conteggio persone e avere un conteggio in tempo reale delle persone all'interno di un locale di una stanza quello che viene definito una stanza come ad esempio una piazza immaginatevi una piazza dove all'interno della piazza ci possono essere non più di mille persone in caso di eventi si possono creare dei varchi obbligati dove le persone entrano ed escono su ogni varco posizionare una telecamera conteggio persone quindi avere più telecamere conteggio persone e in tempo reale conoscere su monitor quante persone sono all'interno di piazza per eventualmente chiudere il varchi o riaprirli però con la singola telecamera non è possibile mettere in correlazione metterne in correlazione più di una di piazza di piazza di piazza Grazie a tutti. Ovviamente se avete di questo tipo di progetti potete tranquillamente chiederci informazioni, siamo ampiamente a disposizione per sviluppare anche questo tipo di progetti o customizzazioni eccetera. Se non ci sono altre domande io direi che possiamo chiudere questo webinar. Rimango in linea altri 5 minuti fino alle 17 nel caso qualcuno volesse comunque fare una domanda in chat. Vi ringrazio per la partecipazione, grazie per la pazienza all'inizio nella risoluzione del collegamento dell'attivazione della telecamera. E ci vediamo al prossimo webinar. Buona serata a tutti.